Laurearsi a Palazzo di Città a Pescara per Francesco Nuvolari è senz'altro una soddisfazione doppia? Sicuramente una grande emozione perché non è stata mai discussa una tesi di laurea a Pescara e quindi per me è sicuramente una grande emozione. Allora parliamo i contenuti di questo progetto innovativo che ti ha portato qui in Comune a Pescara a discutere questa tesi. Intanto di che cosa si tratta? Sì, intanto io mi sto laureando in Scienze dell'Educazione e della Formazione Continua a Bologna e un anno fa ho espresso al sindaco il desiderio di scrivere una tesi per rendere Pescara una città più innovativa e più digitale al pari di Milano, Firenze e Bologna. Lui ha accettato di buon grado e quindi ha iniziato questo percorso. Che effetto fa laurearsi online? Laurearsi online sicuramente genera un effetto anche un po' freddo, però avere anche l'onore di poter discutere una tesi nel Comune e anche in presenza del sindaco sicuramente è una grande emozione ed è completamente diverso rispetto al fatto di essere a casa da soli. In questi momenti Francesco Nuvolari, chi si sente di dire grazie? Sicuramente al sindaco Carlo Masci e al dirigente all'innovazione Paolo Santucci che mi ha seguito in questo intero percorso e anche ai relatori dell'Università di Bologna che hanno creduto in questo progetto e quindi a tutte queste persone. Quali porte si apriranno dopo la laurea per Francesco Nuvolari? Sicuramente il mio desiderio sarebbe quello di rimanere all'interno del mondo della formazione e della formazione digitale e poter supportare il Comune e raggiungere questi obiettivi sarebbe il mio grande sogno. Si sente un antesignano in questo momento, il primo di una lunga serie, che cosa si sente di dire ai suoi coetanei? Io spero che veramente il Comune dia a tutti questa opportunità perché io per esempio sarei dovuto andare a Bologna e avrei potuto portare con me solo tre persone. Invece poter discutere nella propria città è un grande benefit e dovrebbe essere sicuramente esseso a tutti ma non solo a Pescara, in ogni Comune d'Italia dovrebbe essere permessa questa cosa. Una laurea, un grande risultato. A chi lo vuole dedicare? Lo voglio dedicare sicuramente a mia madre, Ermina Turilli, che ha creduto molto nella cultura, nella letteratura e che lei mi ha sempre spronato a concludere questo percorso universitario che, devo dire, non era scontato. In bocca a lui. Crepi, grazie. Grazie.